Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questo dibattito su guerra e violenza partendo da due testi la ristampa del libro di Ernst Friedrich guerra alla guerra e la stampa di diario di un disertore di Bruno Misefari rispettivamente pubblicati da UOM e da cronache ribelli allora io dico giusto due cose prima di introdurre la presentazione di questi due testi sono entrambe due testi scritti basati su materiali in un caso scritti nell'altro fotografati o stampati durante la prima guerra mondiale allora per capirci qualcosa bisogna considerare un aspetto la storiografia ormai la storiografia seria poi se qualcuno in Italia se la vuole raccontare ancora la quarta guerra di indipendenza e robe del genere fatti suoi ma la storiografia a livello mondiale ormai parla della prima guerra mondiale come dell'inizio della guerra civile europea o della seconda guerra dei trent'anni che quindi perdura dal 1914 fino al 1945 questo è un aspetto molto importante da tenere presente nelle vite dei due autori cioè sia di Ernst Friedrich che di Bruno Misefari persone che si oppongono alla prima guerra mondiale e che dopo essersi opposti a quella guerra continuano a lottare contro il regime fascista in Italia nel caso di Misefari contro la repubblica borghese di Weimar quella che fa assassinare Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht nel caso di Friedrich sono entrambe due militanti libertari e Friedrich poi dovrà fuggire dalla Germania nazista combatterà nella resistenza francese contro i nazisti dopo essersi rifugiato in Francia quindi sono delle opere che non si possono estraneare da un contesto che è un contesto della nuova guerra dei trent'anni o della guerra civile europea entrambe hanno esprimono un fortissimo rifiuto della guerra un rifiuto di combattere nella guerra tra stati nella guerra tra imperialismi che scoppia nel 1914 ma anche la volontà di cambiare il mondo la volontà di opporsi ai poteri e poi di opporsi a fascismo e nazismo e questo è un po un filo rosso che che dobbiamo tenere presente contestualizzandoli appunto in una guerra civile europea che dura trent'anni e cercando di capire qual è l'insegnamento di questi oppositori alla guerra del 14 che poi si trovano comunque a dover lottare in questa lunga guerra civile e rifiutano la guerra tra stati ma ci stanno nella guerra civile questo secondo me è un punto centrale io a questo punto partirei chiedendoti un attimo di inquadrare il libro di Friedrich questo guerra alla guerra che ha una storia molto interessante perché guardate è centrale nel proseguo nel fatto che si passa da una prima guerra mondiale a una seconda e quindi col fatto che c'è questa guerra civile europea come appena finita la prima guerra mondiale viene raccontata già nel 1921 in italia fanno l'altare della patria vogliono come dire incorporare tutto questo dolore tutta questa mancanza tutta questa assenza di chi è morto al fronte e utilizzarlo in maniera funzionale alle cerimonie patriottiche poi con il regime fascista non si potrà parlare del fatto che c'è stata un'opposizione alla guerra del fatto che gli italiani le italiane non tutti e tutte felici di fare quella guerra sarà uno degli aspetti rimossi perché il regime prenderà legittimazione proprio da quella guerra in altri paesi come la francia l'inghilterra gli stati uniti invece un discorso pacifista si poteva fare lo si farà tra le due guerre mondiali in germania ci sarà questo discorso pacifista fino alla presa del potere da parte dei nazisti quindi ti chiederei in questo contesto qui proprio di parlarci della metafora che è importantissima a livello europeo a livello mondiale della meteora di ernst friedrich e del suo museo internazionale contro la guerra sì grazie allora inizio a partire dal titolo guerra alla guerra che ovviamente è un titolo quasi ossimorico perché essendo un testo pacifista l'idea appunto di questo pacifista era esattamente non di brandire l'idea come insomma si può sentire anche talvolta che la pace è la cosa migliore a priori eccetera ma proprio l'idea che la per far smettere le guerre in senso in senso capitalistico in senso degli degli stati nella loro propaganda nella loro fabbrica di armi e di morte la l'azione che veniva richiesta da questo attivista anarchico e disertore era appunto quella di fare che era un motto poi anche di guerra la guerra ossia un'azione attiva contro contro gli stati borghesi quindi gli stati in senso lato che non altre forme di stati non abbiamo mai visto se non quelli insomma borghesi o nobiliari che appunto spingevano e motivavano la guerra il saggio di friedrich nasce in quel contesto in contesto di un impegno internazionalista di pacifismo attivo anarchico e non non è un caso infatti che poi il volume uscì in quattro lingue e così come noi abbiamo ristampato in quattro lingue con l'unica differenza che in origine in origine oltre al tedesco l'inglese francese la quarta lingua era l'olandese perché friedrich si era rifugiato in olanda perché era perseguitato appunto dal suo dal suo stato e noi abbiamo sostituito l'olandese con l'italiano abbiamo ottenuto questo spirito internazionalista ossia l'idea di far parlare o di parlare ai popoli che fino a pochi mesi prima si erano fatti fatti la guerra per quanto riguarda poi il libro in sé la cosa forse più interessante oltre a questo messaggio insomma il suo messaggio etico è l'aspetto formale che poi venne in qualche modo anche rubato parodiato o doppiato da insomma da uno scrittore come belton brext che considerava quest'opera di friedrich come un caposaldo della cultura proletaria in senso lato che è appunto l'idea di aver utilizzato le foto come una sorta di cine romanzo o cine giornale dell'epoca con l'aggiunta appunto di una doppia matrice quella delle immagini che lui sottrò agli archivi militari tedeschi e accompagnandole appunto da dei testi che guidano la lettura ovviamente una che non si limita ad essere una sorta di descrizione del libro in sé ma è proprio un vero e proprio saggio politico contro i veri mandanti della guerra che sono appunto le volontà le forze del capitalismo che dalla guerra ovviamente sempre lo vediamo ancora noi oggi nella gioia nella gioia di mobilizzazione attuale quali sono poi le forze che si mobilitano per aiutare tra virgolette l'Ucraina o motivare o spingere una guerra insomma non è un caso quando vediamo Bonomi il capo di Confindustria che va a firmare trattati con Zelensky ovviamente diciamo che la motivazione prima non è quella del bene del popolo ucraino della pace in Ucraina ma è ovviamente staccare contratti per un'eventuale ricostruzione successiva quindi il capitale era l'obiettivo primario di Friedrich tanto che insomma in quarta di copertina abbiamo usato una sua citazione che mi sembra abbastanza chiara finché il capitale governi opprime il popolo le guerre continueranno ad esserci combattete il capitalismo e combatterete contro ogni guerra quindi il suo messaggio primario oltre insomma all'ingiustizia della prima guerra mondiale in sé è un messaggio un po' più trasversale che insomma ancora oggi dovrebbe risuonare insomma come monito e come obiettivo verso cui opporsi quando ci si oppone insomma alla guerra e si invoca la pace in realtà dovrebbe essere una guerra contro i nemici della pace che sono appunto il capitale e i suoi lecapiedi e i suoi zerbini insomma non so se ho riassunto ma assolutamente e il suo lui non fece solo un libro fece anche un museo sì esatto oltre ad aver fatto il libro esatto il aprì un museo appunto il museo dell'antiguera l'anticrieg museum che ovviamente venne innanzitutto venne perquisito e distrutto dalla polizia prussiana e poi in un secondo te infatti poi le foto originali del volume non si trovano più perché vennero requisite dalla dalla polizia appunto di Weimar e dopodiché quando lui riaprì nonostante questa repressione riaprì il suo museo in anni successivi e quando arrivò il nazismo ovviamente lui dove dovette scappare dalla Germania si rifugia in Francia il museo venne chiuso e distrutto e quasi un po' a sfregio nel locale in cui era aperto il suo museo venne creato un centro di reclutamento nazista e quindi era quasi appunto a sfregio verso il suo messaggio che appunto era considerato antipatriotico ovviamente perché il pacifismo non glorificava le glorie dei morti non glorificava le glorie della patria eccetera ma era appunto un messaggio considerato antipatriotico poco virile perché c'è anche questo aspetto questo aspetto qua ed è appunto una cosa che noi vediamo ad esempio in Italia adesso per fare degli esempi abbiamo proposto varie volte delle presentazioni dei musei della prima guerra mondiale che qua in zona è abbastanza c'è in zona un po' più verso il friuli ce ne sono tantissimi però nessuno ha mai voluto appoggiarci in una presentazione perché anche i nostri musei alla prima guerra mondiale sono i nostri insomma monumenti e caduti sono monumenti per la gloria della patria quindi la gloria della guerra mentre questo libro va a controcorrente contro il insomma questo feticismo del milite del milite gnoto e ignoto che sia l'importante che sia morto per una causa che poi lo stato decide essere quella della della sua patria quindi insomma riscontriamo ancora noi oggi questa sorta di insomma retrosia a considerare un testo del genere a farcelo presentare anche in contesti come i musei della guerra o gli ossari che troviamo qua in zona insomma quindi questa questa propaganda continua è sorniona anche se è sorniona continua a persistere nella nella insomma nell'insegnamento nella dottrina dello stato un dato che mi sembra molto importante dire su questo libro è che è un libro di immagini è un libro di volti sfigurati dalle granate di cadaveri riversi sul filo spinato di cadaveri su pini nelle fosse comuni ed è una cosa impressionante sull'uso dell'immagine perché perché già durante la seconda guerra mondiale abbiamo molte più immagini abbiamo già fin dalla guerra civile spagnola persone come gerda taro capa che hanno modo di avvicinarsi molto più vicino ai combattimenti con macchine fotografiche già molto più leggere questo era molto difficile durante la grande guerra ed essendoci quindi meno strumenti per filmare per fotografare la censura era molto più facile di qui ne derivava il fatto che durante la grande guerra appunto la censura era molto più facile ma non è vero che non esistano filmati o fotografie del vero volto della guerra in realtà qualcuno che ha scattato quelle immagini o che le ha filmate c'è stato e la grande merito la grande forza di Friedrich è stato di riuscire a trovare quelle non tantissime immagini è una società in cui certo non c'erano gli smartphone per fare le immagini cioè capiamo la difficoltà di che cosa voleva dire più di un secolo fa fare delle fotografie fare dei filmati e la forza di Friedrich è proprio quella di riuscire in un paese in cui comunque anche dopo la sconfitta il militarismo restava dominante come la Germania in cui appunto avevano già ammazzato Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht riuscire a trovare quelle immagini quello è il valore del suo testo e del suo anti-krieg museum è un aspetto fondamentale giusto una roba poi chiudo era tra l'altro a proposito delle fotografie insomma sottolineo una una scrittrice come Susan Sotag che ha scritto il saggio appunto sulla fotografia che lei insomma considerava le foto di guerra poco rappresentative rispetto al dolore degli altri come in titola e in realtà poi cita appunto il saggio di Friedrich proprio perché la violenza di molte immagini invece riescono proprio ad avere questo impatto insomma shock rispetto al come terapia d'urto la definisce lei insomma ecco io adesso invece passerei a parlare di diario di un disertore in cui questo militante libertario che è già quando scoppia la guerra è già saldo nelle proprie idee vive tutta una serie di situazioni il tentativo di arruolarlo di fargli fare la scuola ufficiali che lui rifiuta il carcere il tentativo di sottrarsi al servizio militare la clandestinità l'espatrio l'arresto rimpatrio l'arruolamento forzato il mandarlo al fronte ecco chiederei un po' di parlare di questa figura e del suo testo innanzitutto vi ringrazio dell'ospitalità e dell'opportunità che ci avete dato di essere qui oggi noi abbiamo deciso come cronache ribelli di ripubblicare questo libro di Bruno Misefari diario di un disertore perché questo libro è un libro in profonda continuità con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di divulgazione storica perché è un libro che ci racconta quella che è stata realmente la grande guerra in Italia oltre una propaganda una propaganda di lungo corso una propaganda iniziata già durante la guerra con la censura di guerra continuata nel dopoguerra chiaramente con il fascismo ma proseguita purtroppo fino ai giorni nostri come ci viene raccontata giustamente veniva detto prima la grande guerra ancora a livello istituzionale e purtroppo ancora in parte a livello scolastico come l'ultima grande guerra di indipendenza come questa epopea in cui sì i nostri soldati stavano male soffrivano morivano all'interno delle trincee ma lo facevano perché erano animati da questo sentimento patriottico di unità e interesse nazionale la realtà veniva detto sempre prima giustamente dal punto di vista della ricerca storiografica che in realtà è completamente diversa questo libro racconta una biografia ma racconta anche alcuni dati che non vengono mai citati non perché vengono riportati al suo interno ma perché sono lo specchio della storia di Bruno Misefari cioè la grande storia di opposizione alla guerra noi siamo abituati a sentirci raccontare sempre questa storia del maggio radioso come se il paese fosse tutto in preda a quest'ansia guerra fondaia e migliaia, decine, centinaia di migliaia di persone affollassero le piazze italiane insomma al seguito di dannunzio dei suoi sodali per entrare in guerra la realtà è appunto profondamente diversa gli interventisti erano una minoranza sicuramente una minoranza molto aggressiva e una minoranza soprattutto finanziariamente sostenuta da tutti quei interessi che avrebbero visto nel corso della guerra crescere in maniera esponenziale le proprie ricchezze è bene ricordare che durante gli anni 14-18 il 70% del bilancio dello Stato italiano venne investito in commesse di guerra voi pensate per un'azienda come la Fiat faccio un esempio o come le aziende che producevano armi o producevano i tessuti cosa significava da un punto di vista economico quindi pensate anche l'investimento per trascinare il paese in una guerra da cui sarebbe uscito con gli stessi o supergiù gli stessi diciamo le stesse acquisizioni territoriali che avrebbe ottenuto senza entrarci perché l'Austria gliela avrebbe concesse al fine di evitare appunto l'ulteriore fronte dicevo questa storia, questa storia del maggio radioso in realtà è una storia totalmente mediatizzata e pompata perché noi ci troviamo di fronte a un paese che non voleva la guerra l'Italia è stata scossa da manifestazioni dal nord a sud che hanno attraversato tutte le città e anche i borghi più piccoli io sono Umbrio, cittadini di 15 mila abitanti ci hanno avuto cortè e manifestazioni per la prace promosse dai socialisti, dagli anarchici da persone comuni che non volevano che l'Italia intrasse in guerra e non volevano che quei 700 mila italiani soprattutto appartenenti alle classi popolari morissero al fronte questa storia è una storia cancellata è una storia cancellata, dicevo prima, nei suoi numeri ne dico solo alcuni, 700 mila morti un milione di mutilati, di cui la metà permanenti ma soprattutto è una storia cancellata nei numeri che riguardano la resistenza alla guerra 900 mila denunce intentate dagli ufficiali superiori del regio esercito nei confronti dei propri sottoposti per tutta una serie di atti autolesionismo abbandono delle postazioni al fronte rifiuto di combattere, rifiuto di obbedire ordini 200 mila processi consumati oltre 100 mila condanne 16 mila condanne all'ergastolo 750 fusilazioni non sto parlando delle fucilazioni al fronte in faccia al nemico di cui purtroppo non possiamo avere dati precisi parlo di fucilazioni a fuochi fermi nelle retrovie di persone condannate a morte perché avevano disobbedito perché non avevano voluto sparare al nemico è la storia della tregua di Natale italiana si è parlato molto della tregua di Natale sul fronte francese ma lo stesso è successo in Italia è la storia delle centinaia di migliaia di italiani immigrati che non sono tornati è la storia dei 100 mila retinenti alla leva italiani quindi è questa storia qui che questo libro racconta che è sì il libro di un militante politico ma è un libro che nella storia che racconta nei valori che esprime esprime in realtà quella che era l'opinione della pancia del paese il paese si è reso perfettamente conto che si stava combattendo una guerra contro la classe su un esercito dicevo prima di alcuni milioni di soldati circa 5 milioni nel complesso la metà erano contadini il resto era composto soprattutto da operai piccoli artigiani quindi un esercito di figli del popolo che andava a morire senza alcuna ragione se non quella di ingrassare come dicevo precedentemente tutta una serie di apparati che grazie alla guerra avrebbero conquistato ancora maggiore ricchezza e maggiore potere nel paese quindi Bruno Misefari raccontando quella che è in parte un'esperienza topografica ma in parte anche un racconto basato su altre testimonianze e facendolo attraverso uno pseudonimo e facendolo diciamo attraverso l'invenzione di un racconto fatto da un compagno da un amico d'armi ci porta a conoscenza di questa storia di questa straordinaria storia di resistenza che è una storia che purtroppo ancora oggi non viene narrata e concludo raccontando secondo me due aspetti importanti di cui non si parla mai non si parla mai dei 100.000 soldati italiani morti in prigionia durante gli anni appunto 15-18 catturati soprattutto dopo Caporetto e durante quell'offensiva portati chiaramente nei campi a cui lo Stato italiano impedì unico in Europa di ricevere viveri tramite la Croce Rossa l'impero ostongarico ovviamente gli imperi centrali in generale erano soggetti a un embargo radicale quindi avevano già grosse difficoltà alimentare i propri soldati sicuramente l'ultima cosa che intendevano fare era nutrire adeguatamente i prigionieri ecco lo Stato italiano unico in Europa impedì alla Croce Rossa di consegnare viveri a questi soldati ma non soltanto scatenò una guerra mediatica con gli strumenti del tempo i giornali contro i nostri ragazzi incolpando i soldati semplici della sconfitta di Caporetto inventandosi storie e succedimenti improvvisi e immotivati di interi reparti facendo sì che padri scrivessero ai propri figli in delle lettere abominevoli spero che tu muoia perché hai tradito questo paese e quindi non riceverai nulla da noi questa storia insieme alla storia delle donne costrette ad abortire nel dopoguerra in un paese ovviamente profondamente cattolico in cui l'aborto era assolutamente vietatissimo perché avevano avuto relazioni in molti casi obbligate in alcuni casi anche libere con gli occupanti austriaci o tedeschi e una campagna 700 stupri del Friuli del Veneto dopo Caporetto e questo per non partorire i figli del nemico per non far sì che la razza italiana si mescolasse con la razza oltre confine cioè è questa la storia reale della grande guerra non è la storia insomma appunto che ci viene raccontata dalle istituzioni non è la storia del piave mormorava non è quella storia lì quella è una storia costruita è una storia che prima di tutto il fascismo ha contribuito a costruire ma poi abbiamo per una serie di ragioni a livello istituzionale continuato a alimentare nel corso degli anni è una storia che non ci fa capire nulla di quello che è accaduto realmente e ci proietta in una dimensione del conflitto che è totalmente sbagliata quindi questo libro come il resto del lavoro che noi abbiamo cercato di fare su questo tema serve serve a questo a ridare voce a quella parte largamente maggioritaria e coraggiosamente radicale del paese che si oppose alla grande guerra in tutti i modi concludo ricordando l'ultimo l'ultimo episodio meritevole secondo me di essere ricordato che è quello di tutti gli italiani che combatterono nelle file dell'impero austongalico tantissimi trentini e chiaramente anche loro lo fecero in molti casi non perché animati da chissà quale spirito patriottico asburgico ma soltanto perché arruolati molti di loro spediti sul fronte orientale affinché non combattessero nelle zone diciamo del loro territorio per ovvie ragioni questa storia è un'altra storia che merita di essere raccontata e è un po' questo il motivo che ci ha spinto a fare questo libro io appunto vorrei ricordare per esempio gli studi di Bruna Bianchi che provano ad esempio attraverso le relazioni dei prefetti come non ci fu nessuna provincia in Italia durante la prima guerra mondiale in cui non ci furono conflitti a fuoco tra disertori e renitenti e carabinieri cioè c'erano bande di disertori di renitenti che accoglievano chi li voleva ruolare a forza in fondo nell'unico modo possibile a fucilate questo è un aspetto secondo me da ricordare come sono da ricordare i ribelli della brigata Catanzaro un reparto del reggio esercito italiano messo nelle retrovie dopo essersi dissanguato in trincean qui a un certo punto dopo pochissimi giorni invece che mandarli in licenza gli dissero tornati in trincea e loro anche loro spararono sui carabinieri e sugli ufficiali subirono delle decimazioni delle fucilazioni appunto non in faccia al nemico ma ben indietro nelle retrovie alcuni alcuni vennero fucilati solo per aver scritto a casa le famiglie abbiamo cercato di fare la rivoluzione e c'è un particolare che a me colpisce tantissimo tra i loro obiettivi al momento della rivolta c'era quello di fucilare Gabriele D'Annunzio sapevano che stava lì vicino nella villa dei conti con l'oredo Mels il poeta eroe non stava certo in trincea e tra i loro obiettivi c'era quello di andare e fucilarlo perché qui c'è trisciante rivalutazione di D'Annunzio in questo paese che adesso qualcuno vorrebbe presentare anche come un oppositore al fascismo ecco a me dispiace molto che i ribelli della Catanzaro invece non abbiano liberato non solo la politica ma anche la letteratura italiana da una persona che se c'è se c'è qualcuno per cui si merita che si usi il termine cattivo maestro è proprio Gabriele D'Annunzio cioè Gabriele D'Annunzio non può essere eletto da sinistra è è proprio una cosa secondo me pericolosa quel modo lì di vivere la vita cioè quel puoi essere anche a favore di una guerra puoi anche decidere di combatterla ma farci sopra la poesia le cose esaltarle in quel modo lì è proprio un modo di non prendere sul serio la vita che porta che è criminale cioè questa cosa qui secondo me è una cosa che in questo paese nella cultura di questo paese ce la ce la dobbiamo dire non a caso scusami fu D'Annunzio a inventare la terribile espressione imboscati d'oltrealpe per descrivere appunto i soldati italiani che erano stati catturati come se fosse stata insomma una scelta loro e stessero in vacanza invece che dentro campi di prigionia in cui morivano di fame sostanzialmente esatto quindi D'Annunzio non è stato affatto meglio di Mussolini chiariamo chiariamo sta cosa c'è un'altra cosa appunto l'idea e qui introduco la seconda domanda che vado a entrambe scontri a fuoco tra renitenti disertori e forza pubblica nella prima guerra mondiale praticamente in tutte le province italiane la resistenza è cominciata anche così anche la resistenza è cominciata con una guerra di disertori e di renitenti che sparavano su chi li voleva arruolare a forza ma lì non ci fu la resistenza a me viene da dire chiariamo un'altra cosa sulla prima guerra mondiale noi in Italia ci raccontiamo sempre che siamo un popolo di disorganizzati lo stato che non funziona ma poi de core ce la facciamo gettiamo il cuore oltre l'ostacolo in questa maniera ce la facciamo se andate a vedere invece la storia della prima guerra mondiale capite che non è così capite che ci fu uno stato che dopo la sconfitta di Caporetto decise che quella guerra andava finita andava finita vincendola e che costrinse a continuare a combattere un popolo che non ne voleva proprio mezza e che dall'altro lato c'era un nemico che veniva avanti intendiamoci saccheggiando e stuprando diciamocelo che in una guerra di quel tipo lì tra imperialismi poi è anche difficile dire o c'hai le distese della Russia è un po' difficile dire regoli conti col col nemico interno e poi penso alle truppe che vengono avanti c'è un grosso problema effettivamente anche da quel punto di vista lì però c'è da dire io trovo molto interessante per esempio il ruolo degli ufficiali di complemento questa figura come poteva essere Bruno Misaferi se avesse accettato di fare l'ufficiale di complemento queste figure che nella prima guerra mondiale sono quelli che mantengono l'ossatura dell'esercito che reprimono in fondo comunque consentono che l'esercito regga che non ci sia una rivoluzione in Italia anche se alcuni di loro poi passeranno con gli arditi del popolo staranno anche a sinistra però in quel momento nel 17-18 sono l'ossatura dello Stato che regge e che saranno invece quelli che accetteranno di cambiare nel 1943 accetteranno di diventare i quadri della resistenza perché appunto guerra civile europea allora anche per riflettere sull'attualità perché la seconda guerra mondiale è stata una guerra mondiale ed è una guerra civile mondiale contro il nazifascismo ma era sempre una guerra tra imperialismi non è che mentre combatteva i nazisti Stalin non era un dittatore Churchill non era un colonialista un razzista Roosevelt insomma se andiamo a vedere cosa faceva in America Latina anche lì ci sarebbe da discutere e anche oggi in fondo abbiamo una guerra civile globale contro i fascismi pensiamo a Capitol Hill pensiamo soprattutto all'ultimo tentativo di golpe in Brasile pensiamo alla resistenza in Rojava contro l'islamo fascismo turco e nel contempo abbiamo in corso una o più guerre tra imperialismi quindi queste meteore di resistenza che poi devono penso a Friedrich che da tedesco in esilio libertario però partecipa alla resistenza in Francia contro i nazisti invasori cioè qual è questo legame tra guerra e resistenza cosa ci insegna la memoria della scorsa guerra che ha visto incrociarsi guerra contro il fascismo e guerra civile contro il fascismo e guerra tra imperialismi quindi la dinamica di Friedrich è esattamente quella quando scappò in Francia si ritrovò poi a entrò subito nella resistenza francese nonostante appunto da tedesco e quindi lottò contro le forze fascismi europei in casa in Francia c'era Vichy e poi c'era stata l'invasione nazista diciamo che lo spirito che potrebbe entrare tra virgolette in contraddizione col suo discorso pacifista del volume ma torna a dire sottolineo di nuovo il titolo che è guerra alla guerra quindi in realtà il suo perché c'è una sorta di dicotomia tra guerra uguale violenza e violenza uguale cosa malvagia in sé ecco lo spirito di Friedrich non è esattamente in questo senso appunto la sua la sua spinta alla guerra contro la guerra scusate era appunto un invito ad intervenire contro quelle che sono le forze che spingevano alla guerra e nel caso poi della seconda guerra mondiale ovviamente tra le forze imperialiste che fosse appunto quella Churchill Stalin insomma tutti torna a dire lo Stato è in sé una forza guerresca cioè non esiste uno Stato che non sia lì per fare una guerra lì è consustanziale non è uno Stato che decide di fare la guerra c'è lo Stato e quindi c'è la guerra e le cose non sono separabili non esiste uno Stato pacifista guardate nel mondo non esiste uno Stato che non abbia un esercito ci può essere la scusa che l'esercito sia di difesa ma come ricorda Nice se c'è la difesa è perché si presuppone che qualcuno ci attacchi perché c'è il retropensiero che noi potremmo attaccare l'altro quindi questa dinamica è inerente alla forma di Stato e quindi torno a sottolineare che il discorso di Friedrich originariamente era appunto anarchico nel senso del primo della parola sia l'unico modo per disfarsi della guerra e disfarsi delle forme di Stato così come le conosciamo e infatti molto importante il suo discorso perché dopo la guerra finita la liberazione Friedrich restò in Francia non tornò mai in Germania e aprì in Francia un centro anche lì di educazione alla pace in cui faceva dei giochi o dei insomma insegnava la pace ai bambini se possiamo dirla così proprio perché appunto il suo punto di vista che apre tra l'altro il volume che scrisse nel 23 esattamente quello c'è una pedagogia della pace e così a modi per chiudere un po' il cerchio cito nella prefazione di Monio Vadia che apre il volume cita la Maria Montessori Monio Vadia e dice che come scriveva Maria Montessori la grande pedagoga tutti parlano di pace ma nessuno educa alla pace a questo mondo si educa per la competizione e la competizione e l'inizio di ogni guerra quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro solidarietà quel giorno si stareà educando per la pace quindi anche da parte nostra che non siamo come dire in un conflitto armato diretto la dinamica partigiana che dovremmo applicare che dobbiamo applicare in quanto resistenti contro lo Stato borghese la guerra è appunto di questo spirito appunto di educazione alla pace che implica una serie di aspetti che possono essere molto quotidiani ossia appunto rifiutare qualsiasi gesto qualsiasi comportamento o anche parola che appunto vada ad appoggiare ad avvalorare il discorso invece che appunto quello della della propaganda che poi propaganda insomma guerra fondaio io personalmente ne sono uscito dalla lettura di questi e vari testi con l'idea che le guerre sono sempre guerre tra imperialismi e non ci sono imperialismi buoni ma non tutte le forme di oppressione di classe sono uguali nel senso che io vivo un regime come quello di Erdogan o come quello di Putin o come quello che sarebbe stato di Bolsonaro come un come quello di era di Bolsonaro e che probabilmente sarebbe peggiorato con un secondo mandato come una prima minaccia ma appunto non ci si può anche laddove queste cose non ci sono accontentare ed evitare di fare dei passi in avanti per superare l'imperialismo il capitalismo la guerra in quanto tali e che su questo la resistenza è lo strumento che ci consente di opporci al peggio senza accontentarci del meno peggio e qui ti chiederei proprio di riconnetterti a quanto quanto dicevamo con questa sì io credo che non ci sia una contraddizione irrisolvibile tra il combattere la pace e il combattere una guerra come fu la guerra di resistenza perché attenzione la guerra di resistenza non fu una guerra tra stati ma fu una guerra che iniziò nel momento in cui le strutture dello stato italiano sostanzialmente collassarono dopo l'8 settembre nel caos e nell'abbandono della monarchia di Roma la mancata difesa di Roma e più in generale la mancata diciamo organizzazione della difesa del paese l'Italia venne occupata dicevamo prima in maniera coloniale da un esercito appunto come quello nazista ci fu chi scelse di collaborare con questa occupazione e chi scelse di combatterla ma chi scelse di combatterla non combatté quella guerra come se fosse una guerra combattuta da uno stato contro un altro la resistenza scelse un'altra strada scelse innanzitutto una strada di organizzazione diversa noi prima giustamente dicevamo che molti degli appartenenti della resistenza avevano combattuto nel reggio esercito e proprio per questo rifiutarono nella stragrande maggioranza dei casi quel modello organizzativo sapevano che il reggio esercito era un esercito classista sapevano che era un esercito organizzato per mandare i proletari a morire e di conseguenza scelsero un'altra forma organizzativa all'interno della quale la guerra la guerra dura anche la guerra violenta ma veniva praticata in un altro modo e con altri fini non si trattava più di combattere una guerra di invasione come poi sono state entrambe le guerre dal punto di vista dell'Italia perché in entrambi i casi l'Italia è entrata in guerra come paese che andava a offendere che non si difendeva ma si trattava di combattere una guerra diversa dicevamo prima una guerra di liberazione da un'occupazione coloniale ma allo stesso tempo una guerra di rivolgimento e cambiamento sociale in Italia c'è stata questo non c'è stata soltanto una guerra di liberazione ma c'è stata una guerra civile c'è stata una guerra di classe c'è stata una guerra di genere e la resistenza ha tenuto tutti questi processi insieme perché non si trattava di un esercito normale ma si trattava di un esercito ideale di un esercito politico di un esercito in cui non si combatteva più perché costretti con i carabinieri alle spalle che ti puntavano le mitragliatrici ma perché si aderiva volontariamente a un certo tipo di scelta poi i motivi che portarono le persone a fare questa scelta furono tanti furono molteplici ma non bisogna dimenticare le differenze profonde che esistono fra questi due tipi di conflitti e lo vediamo anche oggi quando vengono fatti degli accostamenti che appunto dal punto di vista storico non crediamo siano esperienze sovrapponibili in conto a dire che ci sono chiaramente paesi che in questo momento sono in guerra che sono stati invasi che si stanno difendendo in conto a dire che questo tipo di esperienza è paragonabile a una guerra come quella che ho descritto prima all'interno della quale si muovevano tutta una serie di rivendicazioni tutta una serie di pulsioni che oggi nella maggior parte dei casi non vediamo ecco se dobbiamo fare un paragone la resistenza italiana assomiglia molto di più all'esperienza della resistenza kurda oggi contro l'oppressione turca perché lì non si sta solo combattendo una battaglia per un'altra determinazione di un popolo oppresso colonizzato e di altri popoli che insieme a quello vivono ma si sta combattendo una battaglia per realizzare anche una nuova società che era la battaglia che combattevano anche tanti uomini e tante donne della resistenza anche sognando società diverse perché magari chi era comunista aveva un certo tipo di orizzonte chi era azionista ce ne aveva un altro però la maggior parte di loro comunque voleva uscire dal conflitto costruendo un paese totalmente diverso rispetto a quello che c'era precedentemente e non soltanto perché libero dal gioco dell'occupante ma anche perché è un paese che cambiava in tutte le sue strutture più profonde e se il primo risultato l'abbiamo ottenuto il secondo purtroppo è quello che è mancato per tutta una serie di ragioni quindi io direi coltiviamo la pace e lottiamo per la pace finché la pace si può difendere e quando si tratta di combattere combattiamo scegliendo la nostra parte che non è mai la parte di un gruppo dirigente o di un altro gruppo dirigente per quanto io sono completamente d'accordo con quello che dicevi tu non tutti i gruppi dirigenti sono uguali ma la nostra parte è la parte della classe la parte delle minoranze oppresse degli sfruttati di chi appunto vive determinate condizioni e poi il valore della resistenza anche questo l'internazionalismo l'idea che si possa scegliere di combattere non più sotto le bandiere della nazione ma sotto un'altra nazione che è quella appunto degli oppressi è il motivo per cui nella resistenza italiana ci furono jugoslavi sovietici ma anche addirittura tedeschi che disertarono dalla Wehrmacht così come italiani anche prima dell'8 settembre aderino alla resistenza jugoslava o così come uno come Frederick combatte contro quello che era teoricamente il suo paese e è la stessa cosa che oggi in tanti altri contesti ha spinto persone a partire per andare a combattere per una causa perché è questa un po' la differenza non si combatte nella resistenza per uno stato ma si combatte per un motivo ideale esattamente sono pienamente d'accordo e tra il resto una cosa che emerge dai giornali della resistenza è interessante anche nelle brigate garibaldi anche quando a scrivere sono funzionari dirigenti del pc in realtà non c'è mai l'aspetto faremo un rivolgimento puramente socialista o semplicemente di classe c'è una cosa che a me ricorda proprio tanto il Rojave in questo senso nella resistenza italiana che c'è un aspetto al cambiamento etico del paese cioè che proprio i meccanismi di funzionamento dei rapporti tra classi tra stato e popolazione ma anche i rapporti interpersonali devono cambiare che è un cambiamento etico profondo senza il quale secondo me non si può parlare di resistenza come dicono gli zapatisti non si può distruggere il sistema dell'oppressione con le armi dell'oppressione quindi su questa cosa qui ti chiederei se anche tu hai avuto questa impressione qui con le storie di resistenza ma io sì sicuramente ho avuto questo tipo di impressione ho avuto anche l'idea che anche la resistenza fosse un fenomeno molto più complesso di quello che ci viene raccontato oggi c'è stata anche questa operazione l'Italia Repubblicana ha fatto questo ha spogliato la resistenza di tutta una serie di suoi portati più radicali in vari campi non solo nell'approccio alla questione di classe ma penso anche nell'approccio alla questione di genere per esempio ha cercato di inserire la resistenza in questa epopea nazionale in questa storia che inizia con il risorgimento va avanti con la grande guerra e poi chiusa quella brutta parentesi del fascismo riprende gloriosamente nel dopoguerra mistificando in realtà quella che è stata la resistenza la resistenza è stata un evento eccezionale all'interno della storia nazionale perché è una rottura di tutta una serie di paradigmi di tutta una serie di percorsi di tutta una serie di aspetti che avevano caratterizzato la vita italiana cioè paradossalmente è il fascismo che è un elemento di continuità all'interno della storia nazionale e anche rispetto appunto alla storia della grande guerra a differenza della resistenza che come dicevo prima non è un pezzo della storia nazionale ma è attenzione un pezzo della storia di quelle che del Carri ha definito proletari senza rivoluzioni cioè un pezzo della storia della lotta all'interno di questo paese ma più in generale della lotta generale di cambiamento sociale e di lotta sociale quindi io credo che un lavoro importante che noi dobbiamo fare è recuperare tutte queste dimensioni a resistenza e relazionarle con le storie di cui abbiamo parlato prima della grande guerra perché sono forme simili di lotte di rifiuto sono forme di rifiuto di un certo tipo di modello dicevamo prima del modello del resto di esercito del modello di combattimento militaristico e verticale di un esercito classista e d'altro canto accanto a questo rifiuto c'è una proposta politica che c'è in entrambi i casi perché non c'è solo come veniva giustamente ricordato lo sparare i propri ufficiali l'autolesionarsi il fuggire ma c'è anche la manifestazione la lotta sociale pensiamo a quello che è successo durante i muoti di Torino nel 1917 quando la città si ribella perché non vuole più la guerra oppure pensiamo a un evento straordinario come la marcia delle donne a Prato che assaltano la stazione per bloccare i convoi che partivano ecco questa è la stessa storia è una storia che prosegue e è la nostra storia io voglio anche dire e di quelli che stanno da questa parte della barricata dall'altra parte c'è l'altra storia di cui parlavamo appunto prima vuoi aggiungere qualcosa in chiusura sì no semplicemente ricollegando a tutto questo che è stato detto in sostanza non siamo mai in pace nel senso anche noi e lo stato attuale nostro in realtà dovrebbe essere dovremmo continuare a sentirci in guerra e quindi essere in guerra contro la guerra perché nonostante torno a dire le bombe non ci cadano in testa personalmente nello spirito internazionalista del volume anche che dovremmo abbracciare guerra diciamo che non mancano guerre per cui essere in guerra quindi insomma nonostante non ci siano Kalashnikov puntati addosso a noi personalmente ci sono Kalashnikov puntati addosso a nostri simili per cui dovremmo quotidianamente torno a dire nel nostro piccolo nelle azioni costanti anticapitaliste muoverci anche per loro diciamo in qualche modo stare sul fronto con chi la guerra la subisce insomma insomma grazie mille grazie a voi grazie a tutti grazie 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 a tutti